Nella novanta di sinistra della chiesa di Santa Maria Maggiore, tra l'altro questa settimana anche della Madonna della Salute, che ha venuto andare a fare una milita, tra la sinistra c'è una bella tela appunto dell'angelo, tobiolo, come patrono della gioventù, cioè bambino perché lì c'era il collegio dei gesuiti con i santi gesuiti, si fa piacere per recuperare anche la propria iconografia anche in questa immagine. Quello che abbiamo ascoltato e che ascolteremo, viene comunque registrato in video da FAQ Trieste, quindi lo troverete online, quindi vi ringraziamo che ancora una volta fanno questo servizio prezioso e ad alta definizione. E prima di ascoltare anche Zeno D'Agostino era previsto l'intervento del Ministro Patuanelli, abbiamo chiesto se potevamo lasciarci un messaggio ma non c'era fatta, vi porto comunque il saluto del Presidente della Regione che non è potuto intervenire ma porge il suo saluto e in occasione della Presidenza del Ministro Patuanelli avevamo previsto, e questo però lo facciamo, un intervento del Principale Sindacato dei Portuali, il Coordinamento Lavoratori Portuali di Trieste, il CLPT e il suo segretario Stefano Puzzer, adesso prenderà la parola per un breve intervento per farci capire, entrando sempre più nella questione tristina, anche alcune dinamiche del mondo del lavoro e dello sviluppo. Se può accomodarsi al pulpito? Grazie a tutti, ringrazio per l'invito, gli organizzatori. Il titolo è da 30 anni dalla caduta del muro, scusate l'abbigliamento a modo da lavorare tra un paio di ore. A noi sembra che il muro qui a Trieste sia caduto 5 anni fa, in verità, perché si sente parlare di Porto, Portofranco Internazionale di Trieste, da 5 anni. Noi siamo lì a lavorarci da 25 e prima forse lavoravamo in supermercato, non lo sapevamo. Io sono qui per raccontarvi un aneddoto, dovevo seguire il Ministro Patuanelli perché proprio su invito del Ministro siamo stati a Roma in luglio di quest'anno al Ministero delle Finanze. Vi racconto questo aneddoto perché particolare. A quell'incontro era presente l'autorità portuale, c'era la Regione, c'era l'Agenzia delle Entrate, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il Ministero dell'Economia e quando ci hanno visto arrivare, logicamente come portuali non erano abituati, un funzionario ha detto queste parole. Finalmente è successo quello che vi ho già detto che doveva succedere 30 anni fa. I triestini sono venuti a rivendicare il loro regime, i loro diritti, anche noi siamo rimasti sbagliorditi perché neanche qui in città, se non una minima parte delle persone sapeva quale fosse il regime. E lui ci ha detto che non mi aspettavo che venissero i portuali, mi aspettavo che venissero altri, però ci sono voluti 30 anni e benvenga che qualcuno sia arrivato. Noi di questo ci siamo orgogliosi, però ci fa specie, ci fa strano che a portare avanti questa istanza siano stati una parte i cittadini di Trieste, i lavoratori portuali e un Presidente che arriva da Verona. Questo ci fa specie perché vuol dire che la politica a Trieste deve avere più coraggio, se non altro, più conoscenza delle cose perché non vogliamo arrivare al punto che sta arrivando la Flex, la Ferriera, la Sertubi, noi ci vogliamo muore per tempo, per fortuna il nostro porto, il nostro lavoro è salvo. Trieste, il suo porto è una free zone, noi ci aspettiamo coraggio dalla politica locale, noi abbiamo visto, leggiamo sui giornali, scusate se mi permetto di entrare in questo discorso, ma anche l'Imo fatta pagare gli imprenditori del porto di Trieste, secondo noi non è aiutare il lavoro, aiutare il porto in sé. Quindi scusate se mi sono permesso di rubarvi un paio di minuti, è uno sprono alla politica locale e soprattutto ai politici triestini. Coraggio, abbiamo bisogno anche del vostro aiuto, se no ci ritroviamo sempre a far sciopero contro il nostro Presidente, ma grazie. Grazie. Grazie.